Samuele Vignato, Junior Team Cup, ci sono un sacco di ragazzi molto giovani che vogliono diventare calciatori esattamente come lo volevi diventare tu. Che effetto ti fa? No, è un effetto bellissimo. Una volta ero io ovviamente dalla loro parte. Spero che si possa comunque avverare il loro sogno di diventare un calciatore. Basta non molare ma allenarsi sempre. Il tuo sogno si è avverato, sei arrivato in una piazza importante come quella del Monza. Cosa ti aspetti da questa stagione? Siete messi bene in classifica, che ambizioni avete, che ambizioni hai? Sicuramente magari fare qualche minuto in più. Ovviamente la squadra è fortissima, quindi è molto complicato. Imparo ogni giorno dai miei compagni, soprattutto dal mister. È davvero un onore essere qua a giocare con loro. Così come questi bambini hanno un sacco di idoli, ti chiedo qual era il tuo, dal quale hai preso spunto per cominciare la tua carriera. E qual è il giocatore che apprezzi in modo particolare adesso? Il mio idolo di sempre è Ronaldinho ovviamente. Infatti ho il numero 80 per lui quando era al Milan. Il giocatore di adesso sicuramente Messi è il più forte di sempre, a mio parere. E Neymar anche, brasiliano. Secondo te rispetto a qualche anno fa c'è più attenzione verso voi giovani che cominciate a farvi conoscere, a farvi vedere nelle grandi squadre? Credo proprio di sì. Adesso anche c'è più attenzione su questo aspetto giovanile, anche nazionale e tutto. Ci sono più magari scout, preparatori anche nelle giovanili che prima non c'erano. A proposito di nazionale, sei fresco di chiamata. Che effetto fa a vestire quella maglia? È ovviamente sempre un onore vestire la maglia azzurra, è bellissimo. È sempre bello essere chiamati.